Ciao ragazzi, questo è il nuovissimo gameplay, come avete detto sotto dal titolo di descrizione, oggi siamo su Happy Wheels 2 non credo che sia l'originale, però comunque è Happy Wheels 2, che secondo me è un gioco abbastanza figo, che ho iniziato a portare, ho voluto incominciare a portare questa serie di questo gioco quindi spero che vi piaccia, io l'ho già incominciato questo gioco per vedere com'è, e si ve lo consiglio, però no c'è, c'è un dubbio, che è brutto che non è a schermo intero, c'è i ban pubblicitari sia a destra che a sinistra e non capisco il senso, capisco che è gratuito, però mettermi i ban a destra e a sinistra, perché? ma proprio perché? cioè, voglio ricevere un bordello di pubblicità senza vendere niente su questo gioco sì, anche pubblicità con il virus penso, cioè, se si preme sopra, credo che sia un virus boh, ora ci concentriamo sul gioco se conoscete Happy Wheels, conoscerete pure questo gioco qua questo qua penso che sia la copia di Happy Wheels praticamente su Happy Wheels ci sono dei personaggi che si possono scegliere qua sembra che ci sia uno solo, non capisco senso però forse più avanti, sbloccando, finendo tutto, si può continuare con altri personaggi su Happy Wheels si può si può con un personaggio matto fare percorsi assurdi come questo e dopo la persona si ribalta, fa acrobazie e robe varie e fa straridere quel gioco questo qua già meno perché si vede che non è l'originale forse si vede tanto che non è l'originale sta scena è sempre degli anni 1800 con una delle prime bici elettriche ma invece era una benzina, come vedete e tipo consuma, ma come non so cosa un cammello, consuma sta roba e sembra che si muova con, non con le ruote quelle ora mi ammazzo, mi ammazzo sembra che non si muova con le ruote quelle principali perché sembra che siano disegnate sopra cioè girano ma sembra che sono finte ma si muove con la rotellina quella più in basso sembra quello lì ma non lo è perché come vedete sembra che tocca di più la rotellina quella grigia delle ruote nere che secondo me potevano farlo un po' meglio il gioco ma tanto meglio però boccia è figo quindi l'ho voluto provare e comunque scrivetemi sotto se volete che continuo che continuo altri episodi di questo gioco scrivendo hashtag continua la serie e se lo scrivete in più persone una volta alla settimana una volta sì e una volta no porto questo gioco sempre se lo volete voi poi se non so che continuo a ti portare sul canale farò degli episodi speciali di questo gioco e niente spero che sto video vi sia piaciuto come vedete è stato un gameplay molto corto era principalmente per vedere com'è questo gioco ed è abbastanza figo per farci una serie sopra quindi se seguitemi su Instagram Giusti Facebook Luca Giusto sto video arriviamo a 5 like e niente arrivederci a tutti al prossimo video grazie a tutti